Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo thriller che segue la storia di una donna ed il suo incontro casuale su un treno con una donna. Durante la conversazione, entrambe confessano segreti intimi. La scomparsa di una tata accenderà verità mai svelate. Un mix intrigante di intrighi, bugie e segreti che si intrecciano in un thriller psicologico avvincente. La trama del libro La donna del treno della scrittrice Lisa Unger edito da Time Crime, è la seguente. Dalla maestra della suspense Lisa Unger arriva un thriller avvincente su un incontro casuale che rivela un'incredibile rete di bugie. Selena Murphy sta tornando a casa in treno quando inizia una conversazione con un attraente sconosciuta seduta accanto a lei. La donna si presenta come Marta e presto confessa di avere una relazione clandestina con il suo capo. Selena, a sua volta, confessa di sospettare che il marito vada a letto con la tata. Quando il treno arriva alla stazione di Selena, le due donne si separano, presumibilmente per non incontrarsi mai più. Ma poi, la tata scompare nel nulla. Mentre Selena viene trascinata nel mistero dell'accaduto e le fratture nel suo matrimonio diventano sempre più profonde, la donna inizia a porsi domande sull'identità di Marta, la sconosciuta del treno. Ciò che ancora non sa, è che non è affatto preparata ad affrontare la verità. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.